Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder è anch'esso uno squad builder argento, visto che sono i miei preferiti da portare sul canale è una squadra veramente forte, ve lo dico, veramente forte, 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 divertente anche da utilizzare più o meno sono 3 o 4 campionati, non lo so, però davvero competitivo prima di iniziare volevo dire una cosa su questa squadra che sono stato sfigato, nel senso le stats dei vari goal e assi sono un po' sballate perché ho beccato un sacco di gente che mi quittava, persino al sesto minuto ragazzi mi è capitato che al sesto minuto sullo 0-0 mi hanno quittato quindi capite bene che le stats sono un po' del cavolo ma comunque adesso vi parlerò giocatore per giocatore dei vari giocatori 4-3-3, 2 tra parentesi come modulo, mi sono trovato molto bene trovavo sempre il giocatore libero da mandare in porta ma comunque andiamo col portiere, impostiamo argento in porta ho utilizzato Burki, potete usare anche la versione del BVB se la trovate o se ce l'avete Burki è veramente un buon portiere anche se non ha delle statistiche di presa e piazzamento altissime però riflessi e tuffo sono veramente statistiche molto alte lui è un giocatore abbastanza alto e comunque in porta è abbastanza affidabile poi come terzino di destra ho utilizzato Kavanda ottimo giocatore, mi è piaciuto tanto perché oltre ad essere veloce è anche buono in difesa ha un ottimo fisico e cosa particolare in attacco è forte nel senso che quando fa le varie sovrapposizioni mi sono trovato molto bene perché riusciva sempre a trovare i giocatori liberi per poi mandarli in porta non ha fatto nessun assist però ci è andato molto vicino diverse volte come centrale di destra ho utilizzato un giocatore non raro che comunque è veramente fortissimo è tipo il Boateng Silver cioè Rudiger che mi si è infortunato ma vabbè non so che cosa, gamba ovviamente Rudiger è fortissimo perché è altissimo e nonostante ciò è veloce con tanta di velocità quindi roba veramente pazzesca inoltre a difesa e fisico che sono stats molto alte quindi questo lo rendono uno dei migliori se non il migliore sicuramente difensore centrale della Bundesliga parlando ovviamente di giocatori argento mentre come compagno di reparto ho puntato su Bungert che non è malissimo nel senso è un buon giocatore è peccato che non abbia come valore di fisico sulla carta un valore molto alto anche se lui in realtà è un 88 quindi abbastanza alto ma comunque devo dire che mi sono trovato abbastanza bene e per completare la difesa ho utilizzato ho utilizzato, non è di qui Van Anolt questo olandese del Sunderland che ho usato tanto negli scorsi anni perché è veramente forte, veloce, forte in difesa molto simile devo dire a Cavanda per essere sincero tra l'altro mi ha fatto pure un assist ok andiamo a centro campo troviamo come CDC Kirchhoff versione transfer, quella del BVB si BVB, Bayern Monaco versione CDC tra l'altro mi è piaciuto come CDC anche se purtroppo ha quel 55 di dribbling che fa un po' schifo però come perno diciamo davanti alla difesa è veramente forte e inoltre mi ha fatto un gol anche se a 40 di tiro avrà tipo 12 di finalizzazione però mi ha fatto anche un gol poi centrocampista centrale di destra ho utilizzato dov'è? Devo andare di qua Ramel Morrison della Lazio la versione da Lazio veramente un buon giocatore anche se non ha un tiro micidiale mi ha fatto comunque un gol ha comunque una buona velocità ma soprattutto un ottimo dribbling e questo infatti lo rendono un ottimo giocatore perché al centro campo riesce a saltare sempre gli altri centrocampisti e quindi a creare superiorità numerica cosa veramente importante su Ultimate Team come del resto nel calcio normalmente è anche un ottimo passaggio peccato che non mi abbia fatto nessun assist mentre dall'altra parte ho utilizzato un giocatore che non andrebbe proprio in questa posizione cioè Cattermall che lui è più un CDC rispetto a un CC ma devo dire che non mi sono trovato male con lui mi ha fatto un assist ha un workout proprio da CDC puro quindi non si spinge all'attacco però devo dire che come difensore aggiunto diciamo è veramente molto forte poi ci concentriamo sull'attacco come ala di destra ho utilizzato il grandissimo Townsend che sto utilizzando cioè ho utilizzato molte volte quest'anno perché mi trovo davvero molto bene è un ottimo giocatore gioca sulla destra rientra sul sinistro e tira un long shot e comunque un tiro in generale veramente spettacolare 6 gol e 5 assist in 11 partite mettendo le tra parentesi quelle 11 partite perché dovrebbero essere un po' meno però vi consiglio di provare questo giocatore perché è fortissimo l'unica pecca di questo giocatore è sicuramente il fatto che non ha le 4 stelle abilità che l'avrebbero reso davvero fortissimo poi come ala di sinistra ho utilizzato un altro giocatore che mi è piaciuto molto cioè Sinclair che purtroppo negli scorsi anni è sempre stato horror raro comunque di merda mentre chi ha giocato un po' di più a FIFA Ultimate Team nel 12 si ricorderà quanto questo giocatore era forte come Argento come lo è tuttora era veramente un giocatore formidabile ed è tornato quest'anno ad essere fortissimo come lo era in FIFA 12 e quindi sono molto contento perché è un giocatore veloce agile con un ottimo dribbling 4 stelle abilità e inoltre un discreto tiro mi ha fatto 3 gol che comunque vanno molto bene per essere un'ala e quindi davvero provate anche questo giocatore perché non ve ne pentirete mentre per completare la squadra ho utilizzato come attaccante Garner versione Hero in realtà ragazzi se ce l'avete dovete utilizzare la versione Team of the Season io purtroppo non l'ho trovata volevo utilizzare quella perché ha delle statistiche mostruose soprattutto le statistiche di tiri e finalizzazione sono davvero incredibili di questo giocatore purtroppo non sono riuscito a trovare la versione blu se voi ce l'avete o l'avete trovata provatela perché deve essere devastante è molto forte anche questa versione viola di Garner che mi è piaciuto non è velocissimo chiaramente però quando ha il pallone e tira davvero sbaglia raramente purtroppo non mi ha fatto tantissimi gol nel senso 6 partite tra virgolette ripeto 4 gol e 3 assist comunque non sottovalutiamo questi assist che sono molto importanti perché oltre a segnare riesce anche a fare gli assist alle varie ali come possono essere Sinclair o Townsend o ai centrocampisti quindi davvero mi è piaciuto ovviamente la versione blu sarà sicuramente meglio comunque raga spero che questa squadra vi sia piaciuta come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video come sempre scrivetemi nei commenti qualche squadra da portarvi nei successivi video fatemi sapere anche i giocatori che vorreste che io utilizzi successivamente iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga we'll make a ciao ciao